ciao tenorini eccoci qua a questo altro video da tenore informatico spesso mi chiedete nei commenti di altri video la questione che riguarda il pulsante che ci permette di azionare le luci del bagagliaio eccolo qua questo è il pulsantino che tra un po lo vedremo da più vicino e per fare diciamo anche per sostituirlo o verificare il suo funzionamento bisogna smontare il pannello vi lascerò sempre nella descrizione il link per vedere il video su come togliere il pannello in modo da arrivare direttamente al pulsante luci bagagliaio proprio questo la prima cosa che bisogna fare per controllare se il pulsante o le luci stanno funzionando è questo bisogna andare a premere il pulsante se notate le luci stanno funzionando in caso contrario bisogna capire se il problema è il pulsante oppure sono le luci del bagagliaio una volta che il pannello è stato rimosso si possono vedere così tutti i cavi che vanno alimentare il motorino del tergicristallo elettrico poi il pulsante che si può facilmente smontare per mezzo di questi due bulloni da 10 e tramite il connettore che si sgancia eccolo qua si può tranquillamente sganciare e poi successivamente andare a rimuovere il pulsante del bagagliaio per fare questo si utilizza sempre la chiave a crichetto con bussola da 10 mm a volte alcuni di voi mi chiedono come mai questo pulsante non funzioni oppure mi è stato anche detto che non è presente in alcuni modelli di panda mi sembra alquanto strano perché questo pulsante ci deve essere oppure magari avete una versione che non comprende la funzione luce bagagliaio alquanto improbabile secondo me poi si prosegue con l'altra vite da 10 questo blocco ha due funzioni uno per andare a bloccare il portello del bagagliaio e l'altro il pulsantino che dà così è l'accensione o lo spingimento alle luci spingendo così il blocco delle pulsante blocco portello alla parte che va a chiudere il portello del bagagliaio e soprattutto alimentare le luci tramite il pulsante questo è tutto un blocco intero che è agganciato a questo cavo metallico è un cavo rigido e ci sono altre due vitine qui nella parte sotto anche queste vanno tolte siamo arrivati a quello che comporta l'apertura e chiusura del portello posteriore bagagliaio si tratta di questo meccanismo questo è il connettore che si può tranquillamente togliere ma in questo caso non serve se dovete sostituirlo basta premere questa linguetta e poi staccare il connettore per sapere con certezza se si tratta del pulsante o delle luci basterà a esclusione utilizzare uno strumento che si chiama il multimetro o tester digitale che ci permette di verificare così se il pulsante funziona per fare questo smontate il connettore io ora purtroppo non ho con me lo strumento però è molto semplice vi lascerò nella descrizione il link su come si utilizza un multimetro prendete lo strumento inserite i due puntali nel connettore e impostate lo strumento sul selettore continuità se la spia oppure il cicalino vi dà l'avviso significa che il pulsante sta funzionando se il pulsante è acceso e sta alimentando le luci si deve sentire così il cicalino dallo strumento del vostro multimetro rilasciando il pulsante ovviamente smette di funzionare perché non passa più corrente in questo caso invece si deve sentire il suono dal vostro strumento bene che iscritti siamo praticamente arrivati alla fine di questo video ultima cosa se dovete smontare tutto il blocco come vi ho già mostrato basterà in questo punto e anche in quest'altro punto dove c'è questo ferro di metallo che tiene unito il blocco alla maniglia e permette così l'apertura e chiusura tramite la funzione meccanica oppure con chiusura centralizzata basterà andare a disinserire prima in questo punto e poi da quest'altro punto per togliere tutto il blocco alcune volte mi viene chiesto che non è presente il pulsante al quanto strano questo perché il blocco senza pulsante non l'ho mai visto nella panda 169 comunque se non è presente il pulsante basta andare in uno fascia carrozza e procurarsi un blocco completo che ovviamente comprende anche il pulsante sicuramente c'è già la predisposizione basterà smontare il pannello e verificare se avete anche voi la predisposizione con il cavo che va a connettersi con il pulsante bene tenorini siamo giunti alla fine di quest'altro video sempre dedicato alla mitica panda 169 e noi ci vediamo al prossimo tutorial un bel pollice in su per questo video e iscrivetevi numerosi al mio canale ciao a tutti da tenore informatico